Il progressivo invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite, i cambiamenti nella piramide degli elementi valoriali e le nuove tecnologie sono le principali dinamiche che stanno avendo effetti significativi sul mercato del lavoro. Di questo e molto altro si è parlato al convegno Il Lavoro nel settore Retail 2030, la sfida del lavoro sostenibile per i lavoratori e imprese, organizzato da Feder Distribuzione nella sala plenaria Marco Biaggi del CNEL. Ad aprire i lavori il presidente del CNEL, professor Renato Brunetta, con i saluti istituzionali del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon. Un'organizzazione si misura, si valuta in termini di efficienza, in termini di flessibilità, in termini di resilienza, in termini di qualità, in termini di eticità nei momenti di stress. E recentemente il nostro paese, assieme a tanti paesi al mondo, ha vissuto un enorme periodo di stress, la pandemia. La grande distribuzione organizzata, moderna, la grande distribuzione, non ha attaccato la segreteria telefonica. Sono rimasti aperte, morale, personale, non è mancato nulla e se posso dirlo con un po' di enfasi, hanno salvato l'Italia. La contrattazione collettiva ha un valore incredibile, perché quello è il luogo deputato. Poi ci possono essere anche delle norme che noi possiamo in qualche modo agevolare o in qualche modo potenziare. Ma la vera novità della flessibilità sul lavoro, dell'incremento del lavoro, dei servizi sul lavoro, la si può ottenere solo con una contrattazione forte. Questo secondo me è elemento fondamentale che noi dobbiamo spingere in qualche modo e dare risposta a quello che è il mondo di tutti i lavoratori e soprattutto anche di questa categoria. Una giornata che ha avuto come focus la rappresentazione del mondo del lavoro e di come si stia evolvendo, fotografato dal presidente di Feder Distribuzione, Carlo Alberto Buttarelli. Il nostro è un settore di imprese che sta crescendo molto in termini anche di occupazione. Il mondo del lavoro oggi propone delle sfide importanti, nuove. Ricordo per esempio l'evoluzione tecnologica delle imprese, del lavoro, l'invecchiamento anche della popolazione. E quindi le nostre imprese sono molto impegnate in termini di formazione, per quanto riguarda le risorse attualmente presenti, per renderle adeguate a quelle che sono queste nuove sfide. E soprattutto impegnate anche all'attrattività dei nuovi talenti, i nuovi giovani, cercando di informarli di più rispetto anche alle opportunità di crescita che il nostro settore può proporre anche alle loro esigenze di crescita che stanno esprimendo. È un tema complesso il mondo del lavoro in questo momento. Noi lo vogliamo affrontare insieme alle istituzioni, alle parti sociali e riteniamo che questo dialogo che stiamo aprendo sia un buon modo per arrivare a trovare le soluzioni anche per il futuro. Tra le nuove sfide per il mercato del lavoro si affaccia anche quella posta dall'intelligenza artificiale. Le sue implicazioni nel settore retail assieme all'analisi del regolamento dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale sono stati i temi al centro dell'intervento di Michele Faioli, professore associato del Dipartimento di Diritto Privato e Pubblico dell'Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ne hanno appunto messo in luce le potenzialità.